Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Fine di un amore? Il rapporto tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sembra essere in bilico, con numerosi indizi che fanno pensare che la fine si avvicina. La recente cacciata di Madonia dalla trasmissione di Millie Carlucci sembra aver influito negativamente sulla coppia. Le interviste rilasciate dai due insieme alla storia Instagram postata da Sonia hanno fatto preoccupare i fan. Inoltre, un esperto di gossip ha riportato un'indiscrezione che ha alimentato ulteriori dubbi. L'allontanamento di Angelo da Ballando ha scatenato una serie di dichiarazioni ambigue da parte di entrambi. Madonia ha ammesso che il periodo è complesso e pieno di novità, mentre Sonia è apparsa visibilmente scossa durante un'intervista. La produttrice è stata intercettata da un giornalista e ha rivelato di non essere stata informata della situazione prima di vederla sui media. Ulteriori segnali di crisi sono emersi dalle storie Instagram di Sonia e dai commenti di esperti di gossip. Dagospia ha confermato la presunta rottura tra la coppia, mentre Gabriele Parpiglia ha previsto la fine della storia d'amore. Al momento non c'è certezza sulla fine della relazione tra Sonia e Angelo, ma i segnali sono sempre più evidenti. La coppia sembra essere sull'orlo della rottura, lasciando i fan in ansia per il...